Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù nel Tempio diceva la folla nel suo insegnamento Guardatevi dagli iscrivi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamata a sé i suoi discepoli, disse loro In verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore Questa domenica è la domenica, potremmo dire, delle vedove. Ci sono due vedove, una nella prima lettura, con il profeta Elia, una vedova straniera, che sta in Libano, quello che noi chiamiamo Libano, che allora chiamavano Fenicia, e la vedova del Vangelo. Le vedove, nella società ipermaschilista, in cui la Bibbia si colloca, erano, naturalmente, una delle categorie più svantaggiate. Infatti, quando la Bibbia parla dei poveri, per dire delle categorie più povere, gli orfani, le vedove e gli stranieri. Ecco, sono le tre categorie che la Bibbia invita ad aiutare, a sostenere, proprio perché una donna che rimaneva sola, senza l'appoggio, la difesa dell'uomo, del marito, si ritrovava veramente all'ultimo posto. E sono proprio queste, invece, che vengono esaltate dalla scrittura, che leggiamo oggi, come invece modello. La prima, quella del profeta Elia, come modello di ospitalità e soprattutto di fede. La vedova si fida della parola del profeta e si affida a lui. La seconda, quella del Vangelo, come modello di dono totale. Gesù la loda mentre butta le sue due monetine nel Tempio, nell'offerta del Tempio, perché, come dice Gesù, tutti hanno dato del loro superfluo, una parte del loro superfluo. Lei, invece, ha dato tutto quello che aveva per vivere. Ecco, in quel dono, siamo ormai alla fine del Vangelo di Marco, siamo vicini alla passione di Gesù, in quel dono totale Gesù intuisce, vede il segno del suo dono, di quello che sarà il suo dono totale della vita. Ecco, e allora ci invita Gesù a vivere la stessa radicalità nel dono, non importa quanto, come e dove dai, il Signore lo vede. Nessuno avrà notato quelle due monetine che la vedova ha buttato in quella specie di, c'erano delle specie di trombe che uscivano dal pavimento del Tempio e dove la gente buttava le offerte. Nessuno avrà notata. Il Signore la nota, il Signore la vede e vede il suo dono radicale. Chiediamo a Gesù di essere anche noi capaci di doni radicali, non solo di cose, di denaro, certo, ma di tempo, di ascolto, di sorriso, di servizio, di attenzione ai fratelli. Ecco, radicali nel dono vuol dire imparare ad amare come ha fatto Gesù. 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 Grazie a tutti.